Il Dottor Matthews Io ti aspetto qui Ciao, Jody, vieni pure Mi chiamo Nathan Nathan Dawkins Io ho pensato che ci avrebbe fatto bene chiacchierare un po', giusto per conoscerci meglio Solo se sta bene anche a te, sia chiaro Jody, il mio lavoro è studiare strani eventi e poi provare a spiegarli Come le cose che ti capitano, vero, Jody? Tua madre mi ha detto che hai un amico invisibile Dimmi, questo amico c'è da tanto tempo? Da quando sei nata? È un fantasma? O forse è lo spirito di qualcuno che ci ha lasciato? Puoi disegnarlo per me? Puoi dirgli di fare qualcosa? Tu gli dici cosa fare E succede? Io non gli dico cosa fare, nessuno può È come un leone in gabbia Noi due siamo legati Non può scappare E questo lo fa arrabbiare Ma non è colpa mia Io vorrei che se ne andasse A volte mi fa veramente paura È stato lui a farti questo? No Sono stati mostri E questo è stato lui a farti questo? No 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 Grazie a tutti